Ciao bambini, noi siamo i ragazzi della prima liceo. Avete presente quelli che entrano insieme a voi? Soltanto che noi poi andiamo al piano di sopra. Abbiamo pensato di farvi una fiaba per tenervi compagnia durante l'estate. Bambini, la fiaba che vi vogliamo regalare parla di una bambina e di un virus un po' cattivello. Quindi, buona lettura! In questo video, bambini, vi auguriamo una buona estate e un buon divertimento. E mi raccomando, giocate tanto! Ciao! Ciao bimbi, buone vacanze! Ciao bimbi, come state? Spero bene. Vi auguro delle buone vacanze estive e ci vedremo prestissimo. Ciao bimbi, vi auguro una bellissima estate e spero che vi divertiate tanto con le vostre famiglie. Ciao bimbi, spero che siate bene. Divertitevi e passate una buona estate. Ciao! Ciao bimbi, io vi auguro di passare una bellissima estate, di divertirevi tanto e di giocare tantissimo e sempre con i vostri amici. Vi voglio bene. Ciao ciao! Buona vacanza, bambini! Ciao bimbi, io mi chiamo Gioele e ho scritto con i miei compagni la fiaba che leggerete. Spero vi piaccia, noi ci siamo impegnati molto. Buona estate e divertitevi. Ciao! Ciao bimbi, come state? Vi auguro una bellissima vacanza e spero tanto di vedervi l'anno prossimo. Un bacione, spero che la nostra fiaba vi piaccia. Ciao! E i bambini sono Chiara, ho partecipato anche al progetto della fiaba. Vi auguro una buona estate, un bacio, divertitevi, state in famiglia, state insieme e buona estate!